Offrire ai cittadini uno strumento di informazione sul ruolo del notaio e le garanzie offerte a tutela dei loro beni. A questo mira la Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio, realizzata dal notariato e da numerose associazioni dei consumatori. L'iniziativa è stata presentata in contemporanea in 25 città italiane, tra cui Potenza. Sì, di tutela dei consumatori, di trasparenza nei rapporti tra notai e cittadini consumatori. La Carta in sostanza evidenzia molto chiaramente quale sono le responsabilità, i doveri e i diritti dei cittadini. Il progetto infatti mira proprio a far conoscere le garanzie offerte dal notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica, garanzie che concernono direttamente la legalità e la tutela dei cittadini nelle compravendite immobiliare e nelle altre attività inerenti sui beni. A noi interessa sostenere la tutela dei cittadini attraverso la Carta dei diritti oggi che è presentata contestualmente in tutta Italia, attraverso la Carta dei servizi anche nei comuni, perché i diritti dei cittadini partono dall'interno dei comuni. E ahimè, in questa regione la Carta dei servizi è una sconosciuta.